Pazienti lasciati sulle barelle ad aspettare ore di attesa per i referenti, code e tensioni. Anche nel 2018 il nuovo pronto soccorso di Agrigento, appena inaugurato, ripropone le vecchie emergenze. E' ad annotare le lamentere degli utenti, esasperati gli agenti della polizia. A chiamare le volanti sono stati i propri cittadini che, dopo aver aspettato ben 11 ore di attesa, hanno voluto chiedere a gran voce i propri diritti, temendo per i propri cari ammalati. Tessimone di quanto accaduto anche un consigliere comunale di Palazzo dei Giganti, Salvatore Borsellino, che racconta Mi sono trovata in ospedale e vista la grave condizione di una mia strettissima parente con un ischemia in corso che doveva essere trasferito urgentemente a Palermo, al fine di essere sottoposto a un delicato intervento. Dopo ben 13 ore di attesa, nulla si è mosso, solo un medico presente per centinaia di malati gravi che non ricevevano alcun assistente urgente, aggiunge Borsellino. Una sola ambulanza per l'intera provincia di Agrigento, che forse ironizza, doveva arrivare da Marte, con utenti ammalati gravi in attesa. Mi appello con forza, conclude il consigliere Borsellino al direttore generale Venuti, da utente e da politico, dicendo che è vergognoso il modo in cui viene gestito questo ospedale. A breve interrogheremo l'assessorato regionale alla sanità e non solo. E le criticità del momento sono state confermate anche dalla stessa direzione dell'ospedale, ma le cause sono state ribaltate su fattori differenti. Per il direttore Antonello Seminerio, a causare disservizi è stato il momento di perafflusso e non si è trattato di un problema di struttura e rallentamenti alle cause avrebbero a suo dire creato disagi, solo i malati non gravi.